Primo e secondo nel mondiale di classe 3 non succedeva da tantissimi anni. Classe 3C, tanto una categoria sulle quali siamo stati molto critici, perché la federazione internazionale continua a non voler imporre l'obbligo delle capsule di sicurezza, che tutelano la vita dei piloti e non ne diminuiscono le prestazioni, tant'è che oggi i due italiani che hanno vinto hanno entrambi montato la capsule di sicurezza e hanno battuto le barche senza capsule di sicurezza. Credo che questo dovrebbe farli molto riflettere.